Ciao a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo episodio di Reigns Allora sono sempre io il vostro Mr.L E continueremo esattamente dove ci eravamo lasciati la volta scorsa Questa qui permette una serie che porterò avanti solo con voi Indipendentemente dal fatto che vi piace o meno Quindi fatevela piacere per forza, capito bene? E intanto che sta caricando la schermata Sta andando in giro per camera mia con le cuffie collegate al telefono Per mettere a posto cose, chiudere porte e robe varie Sperando che nessuno venga su a rompere Ok, il classico caricamento Ok, qui eravamo arrivati qua noi con William Lavaro Non deve essere il nostro quarto re Perché c'era il primo, prima di noi ragazzi Che era, cioè questo qui è il secondo Tipo, bo, porca troia Baudin, sto coglione qua, era il primo Perché poi, ecco qua, perché prima di noi c'era George Che era, prima di noi c'era un altro re Che è lo spirito che ci parla sempre In ogni caso andiamo avanti e sentiamo cosa c'è da dire lo spirito Ah no, inizia così, inizia così, ok Siamo Edward Principe Edward di Inghilterra L'uccello fottuto Qual è il compito di questo uccello? Thank you, thank you Non so che fare Per prepararti ragazzi, insomma, per prepararvi Mio signore, il re dell'ovest ci sta visitando Scegliere se esseri noiosi oppure deliziosi così, buonissimi Signor Harry Non dovremo organizzare una grande cena Buona idea, così perderemo un po' dei soldati Però, vabbè È stata una terribile idea Il tè Il re preferiva andare Ok No, era una terribile idea Il re preferiva andare a cacciare Buona idea Cavolo, spero di non farmi male mentre caccio Ok, abbiamo ribilanciato tutto quanto per ora No, sì La diplomazia Ah, ok, praticamente No, signore Praticamente questo qua dice che vuole fare entrambi Quindi Io dico Facciamogli entrambi Paffanculo Mentre noi ci stavamo preparando per il suo arrivo Il re dell'ovest ci ha invaso E ci ha esigati Una domanda ragazzi Io per il re dell'ovest Contando che qua siamo nel meno evo Non esistono auto cose varie Ehm Come ha fatto esigliarci Come Arriva così con Con un jet super veloce Così Tipo il corpo di stato In In Lai, Turchia Ma che bastardo Abbiamo Siamo andati avanti un anno Ma abbiamo fatto Che merda Vaffanculo Ora basta Sapete cosa ragazzi Mi sono rotto il cazzo Guerra a tutti Che cazzo lo siete Padre Quill Ho incontrato Una strana signora Ehm Che conosceva bene L'antica arte Delle piante E dei sogni Ti piacerebbe incontrarla E la chiesa odia La chiesa stra odia La magia Quindi di sicuro Andrà giù infatti Ma così Sblocavamo un nuovo personaggio Lo sapevo Cioè lo sapevo Non lo so Cioè L'ho ipotizzato ragazzi Sakuya Che sta qua Ah si Ci viene un messaggio Via Gabbiano Qua Il messaggio dice Gli abitanti che abitano Nelle isole Ci stanno Menessi Ci stanno minacciando Noi dovremo attaccarli Prima che lo attacchino loro Vaffanculo Guerra Everywhere Adesso abbiamo Matt Il rappresentante del popolo Che ci dice I cereali sono Ok Praticamente Praticamente ci dice Che il costo dei cereali È veramente troppo Ci sono pochi cereali Quindi giustamente Diventa un venerato I cereali Perché il racconto È stato Ha fatto un cazzo E quindi dovremo aumentare Il prezzo Possiamo decidere Lo aumentiamo un po' Oppure lo aumentiamo Il doppio Ho bisogno dei soldi Ragazzi Aumentiamo del doppio Oh bene Guardate quanti money 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 Ah se qua Il nostro giullare Che è anche quello Rica nell'episodio Precedente Da quel capito Aveva perso Un leone Per strada Ti piacerebbe giocare Al nano rosso Mio lord E iniziamo con No brutto figlio Di puttana Non pensavo Mi ha costato i soldi Pensavo andarselo su Anche Ok lui dice Di essere sicuro Che vince Il mio gioco Con i dadi Ok lui fa Due cose Io Ok lui ci dice Che ha vinto E ci chiede Se vogliamo giocare ancora Fottiti Mi costi i soldi Una perdita di tempo Giullare Non sarò un cazzo Il regno del sud Cioè declinare Significa fare una guerra Vaffanculo Andiamo in guerra Non ho ancora capito Che significa Quella cosa qui Oh mio dio Oh mio dio C'è stata C'è stata C'è una piega di colera Nella capitale Che si chiama La morte blu Chiusi Chiudi Curiamo la popolazione Anche se ci va giù Un po' tutto La nostra bellissima capitale Sa di spazzatura Andiamo a costruire Un sistema Del cazzo Che ci frega Cioè Io direi Di sì Perché il popolo È abbastanza bassino Ma C'è un sistema Di Come dire Di riciclaggio Però Adesso ci abbiamo I soldi Tanto i bassi Direi vero È tutto bassino Ragazzi Ma è preso Particolarmente male D'esercito i soldi Dovremmo attaccare Il regno Qua so che Whatsapp Dovremmo attaccare Il regno del sud Stanno Stanno crescendo Troppo in fretta Ogni giorno Se io Abbiamo poco esercito Ma non importa Guerra ovunque Voglio io E siamo già In 8 anni In carica Ragazzi Mio signore Sembra che il suo esercito Eh già Si stia Si stia Veramente Messo a merda Dovremmo spendere Dovremmo spendere Un post Per questo problema Eh cavolo Questo qui Non è un problemino Ragazzi Che se io dico no Il esercito Ci scende Ma se dico sì Eh sì Dai Anche se Ci scendeva troppo Sennò Ma abbiamo bisogno Di soldi Ora Eh La gente al nord È superstiziosa Costruire Tipo Era etica Costruiamo Novo Che se chiese Con i tuoi soldi Con i miei Papa del cazzo Che sto qua Sono un serial killer Harry Harry Il giustiziere Io sono un serial killer Tu sei il mio Il mio boia Ora Ah lui dice Questo lavoro qui Fa schifo Se io vorrei Magari Forse Ma nessuno Vuole che te lo faccia Se lui vorrebbe uccidere E io dico Andiamogli dietro Ragazzi Che magari È un nuovo personaggio Io sono Lady Lena Liana Liana Posso aiutarti Posso aiutarti A scoprire Posso aiutarti A scoprire I limiti Dell'umano È una Fottuta Saggio Io dico Va bene La chiesa Ti scende Ma non troppo Ok E siamo già 12 anni In carica Ragazzi Non siamo presi male Io Io potrei essere L'esecutore Dottore cosa Stavo cercando Un nuovo modo Per poter testare Nuove Pozioni A velini Quindi Il nuovo boia Ragazzi L'esecutore boia Scusatemi Io Quindi Ma però Ci vanno su E ci dice Che ci potrebbe pagare Quindi Io gli dico Di sì Va bene E tanto ci paga Vai giù il popolo Ma Porca troia Il popolo è rivolto Vaffanculo Eh Velocemente Apparso Che l'igiene Era L'ultimo Dei concetti Del dottore Cosa Vabbè In ogni caso Il popolo è andato Troppo giù Una terribile Piaga Piaga Aaaaa Il dottore Ha fottuto Per sbaglio Ha causato Una piaga Una terribile Piaga Ha seguito Gli esperimenti Ha susseguito Gli esperimenti Del dottore Convinti Diciamo Come dire Praticamente Siamo stati Sposi stati Mandati via Dal trono Ma che cazzo Ragazzi Il secondo episodio Finisce Forse qui Guarda a sinistra Guardate a destra Ragazzi Qui c'è questa specie Di tirangolino Con un più Ragazzi Prima Non mi sembrava Che ci fosse Penso che qua Tipo Sblocchiamo nuove cose Importanti Per capire La storia E cose varie Io E basta Non volevo andare avanti Che adesso Senti Facciamo così Io stoppo qui La registrazione E se tutto va bene Perché sento rumori Attacco un altro Ok Ci si vede dopo Ciao a tutti ragazzi